E se pensate che questo video si è clickbait, mi importa una sega! Salve a tutti ragazzi, sono Z da Willix e purtroppo non abbiamo ricevuto trailer ufficiale riguardo il nuovo DLC Los Santos Drug Wars in arrivo martedì 13 dicembre su GTA Online, molto strana come cosa, fatto sta che io penso che ormai il trailer insomma uscirà solo nel momento del rilascio del nuovo aggiornamento, però nonostante questo Rockstar ha comunque postato qualcosa riguardo GTA Plus certo, a noi di GTA Plus ci importa una sega, però nella pagina dove spammano le porcate che si possono avere con GTA Plus c'è stata rivelata qualche informazione che io reputo importante innanzitutto questo primo capitolo di GTA Online verrà introdotto con una serie di missioni guidate dalla trama intitolata First Dose prima dose, capitolo di apertura di una storia che avrà due parti, anche se non ho capito se la seconda parte sarà tra qualche settimana primavera, estate, staremo a vedere come suddivideranno i vari contenuti di questo grandissimo DLC fatto sta che ci saranno nuove missioni con il nome di questa trama, un po' come abbiamo visto quest'estate con ULP dove appunto ogni missione di ULP aveva il titolo iniziale ULP, due punti, nome della missione ma la cosa più interessante è che a quanto pare il veicolo speciale di Warstock & Shackery in cui potremo inserire il laboratorio di acidi sarà questo veicolo, ovvero l'MTL BrickAid 6x6 scommetto che sarà situato su Warstock & Shackery dopo aver fatto visita ai Jaggalo nel loro covo partirà un filmato e dopo il filmato di introduzione del nuovo DLC potremo acquistarlo sono certo che questo BrickAid sarà il nuovo veicolo speciale perché non penso sia assolutamente possibile tramite modifiche di Los Santos Customs inserire in un laboratorio di acidi mentre i veicoli di Pegasus come ben sappiamo non sono assolutamente personalizzabili la cosa negativa in tutto ciò ragazzi è che purtroppo questo laboratorio di acidi sarà un business passivo in stile bunker e lo dico perché c'è scritto che chi avrà GTA Plus potrà oltre che installare gratuitamente il laboratorio di acidi sfruttare anche un aumento del 50% della velocità di produzione di acidi durante il mese di GTA Plus e questo ci fa capire appunto che sarà un business passivo che sia una cosa positiva o negativa valutate voi io personalmente penso sia negativa perché intanto dovremo investire sicuramente un sacco di milioni su potenziamenti del laboratorio e poi sicuramente giocare almeno un mese fisso per rifare i soldi investiti solo con la produzione di questo laboratorio di acidi poi logico che il tutto sarà da vedere sto dando solamente un parere personale sicché immagino che funzionerà così questo business dovremo investire per l'acquisto di potenziamenti e scorte aspettare che il nostro staff produca la merce all'interno del laboratorio di acidi e dopodiché effettuare la missione della vendita della merce prodotta praticamente come ho ripetuto anche nei vari video in stile Walter Wright a.k.a. Eisenberg e Jesse Pinkman o se preferite in stile Gas Fring perché noi faremo la parte più di Gas che non di Walter o Jesse come con il completo della mummia Rockstar Games ci fa sapere che ci saranno anche vestiti festivi purtroppo dedicati solo a chi comprerà GTA Plus e ahimè io GTA Plus lo comprerò però lo farò esclusivamente per mostrarvi eventualmente questi completi nei prossimi video del DLC poi eventualmente magari vi farò sapere anche in un video a parte se varrà la pena o meno acquistare GTA Plus per i mesi del DLC io chiaramente al momento lo sconsiglio come sempre concludendo questo video per chi si fosse chiesto che fine abbia fatto l'app iFruit per personalizzare i veicoli e in particolare le targhe ebbene è stata rimossa dalla stessa Rockstar Games in tutti gli store per app perché vogliono rivoluzionare questa applicazione per il prossimo DLC con una specie di garage virtuale collegata al nostro personaggio di GTA Online come funzionerà per il momento chiaramente non lo sappiamo e lo scopriremo solo con il rilascio di questo nuovo DLC speriamo almeno nell'aggiunta di nuove targhe o ancora meglio di verniciature esclusive o colori a nostro piacimento con magari l'utilizzo della tavola RGB quindi niente ragazzi fatemi sapere la vostra tra i commenti da ZWX è tutto noi ci sentiamo al prossimo video ciao